Ciao amici di Che Cucino, bentrovati nella mia cucina. Oggi preparo il purè di patate. Per prima cosa preparo le patate, le ho sbucciate, lavate, fatte a pezzi e adesso le faccio lessare in acqua abbondante. Aggiungo un po' di sale e copro con il coperchio. Quando le patate sono cotte le scuolo. Poi le schiaccio con una forchetta. Poi le metto in una padella. Aggiungo del burro, inizio a mescolare e il latte. Aggiungo poi un po' di formaggio grattugiato. E continua a mescolare. E il purè di patate è pronto!